Le piazze preferite per lo spaccio non erano solo quelle di Palermo, perché grossi quantitativi di cocaina, eroina, ascisce e maruiana venivano spacciate anche nel Trapanese, ad Alcamo e Castellammare in particolare, per arrivare anche a Mazzara, Trapani e Marsala. La droga, probabilmente, veniva acquistata a Palermo da spacciatori locali o in trasferta ad uso e consumo di giovani alcamesi e castellammarese. Questo è quanto emerge anche dall'operazione Tiro Mancino, dalla squadra mobile di Palermo, che ha eseguito 26 ordinanze di custodia cautelare, 20 a Palermo, 6 nel Napoletano, firmate dal GP di Palermo su richieste da IPM e dalla Direzione Investigativa Antimafia. La droga arrivava in grossi quantitativi dalla Campania, grazie ad un patto mafia-camorra nelle piazze della Sicilia occidentale, grazie ad un accordo fra Cosa Nostra, come dicevamo, e la Camorra. Gli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile di Palermo, coadiuvati da unità cinofile e con l'ausilio di personale delle squadre mobile di Agrigento, Messina e Trapani, hanno eseguito contestualmente agli arresti numerose perquisizioni a Palermo, Alcamo, Castellammare e Mazzara, nei confronti di persone appartenenti alle due organizzazioni criminali e nei confronti di numerosi fiancheggiatori. Ad uno dei boss sono stati sequestrati beni per circa un milione di euro, tra cui uno allo sua savilla alle porte di Palermo, sequestrati ingenti quantitativi di droga. L'operazione Tiro Mancino e numerosi sequestri di droga, eseguiti da Carabinieri e Polizia di Alcamo e Castellammare, dimostrano, qualora ce ne fosse stato bisogno, la vastità di un fenomeno che vede protagonisti consumatori giovanissimi. Chi ha visto nell'Alcamese finire in galera anche i rampolli dell'Alcamo bene, luoghi preferiti per lo spaccio, come dimostrano l'operazione della Forza dell'Ordine e le zone della Movida Salvaggia, dove scarseggiano i controlli e che diventano portofranco per spacciatori e consumatori. In passato, indagini hanno fatto emergere anche l'arrivo in treno da Palermo di spacciatori, che poi scendevano alla stazione ferroviaria di Castellammare, dove spesso ad attenderle erano acquirenti. Nonostante l'allarme del CERT di Alcamo e le sue iniziative, una vera e propria epidemia è rappresentata dall'uso di droga. Si inizia anche a 13-14 anni ad ingurgitare cascate di alcolici, droghe e alcol, fenomeni, pare inarrestabili. Occorre maggiori controlli, soprattutto da parte della famiglia. Occorre che i genitori collaborino con la scuola e non prendersela con gli insegnanti in caso di giustificate rimproveri. Occorre collaborare con la Forza dell'Ordine. Occorre vigilare e non abbassare la guardia per evitare che tantissimi giovani imbocchino un tunnel dal quale poi è difficile uscirne fuori. L'operazione di Romaggino è l'ennesima conferma dell'emergenza spaccio contro cui quotidianamente combattono le forze dell'Ordine. Ma occorre la mobilitazione di tutti per cercare di arginare quel fiume in piena rappresentato dallo spaccio di droghe di vario tipo. Droga, vero e proprio bussinesse mafioso e non solo come dimostrano le quasi quotidiane scoperte di piantagioni di marijuana nelle nostre campagne.